Dubbi amorosi di Pietro Aretino Magnifico utriusco e serragnello, voi qui scrivere sciti square quia e spesse volte fate col cervello di Bartolo e di Baldo notomia e le leggi passate col crivello nella vostra bizzarra fantasia questi dubbi di grazia mi chiarite che oggi in bordello ha mosso una gran lite Porzia fedelsa avea fatto chiavare molt'anni col consenso del marito ma perché non poteva i figli fare e l'era da ciascun mostrata a dito un astuto villano fece chiamare e fe di figli un numero infinito Or, il marito l'ha per vituperio, utrum, possa accusarlo d'adulterio? La legge adulter singolare testo dice ad leggem Iuliam di adulterio quando il marito non accusi presto la moglie che gli fa tal vituperio e sa che la molti anni in disonesto modo si dà con altri refrigerio più non la può, decrimine accusare e a tutta briglia si può far chiavare Avea la martuzza un giorno tolta la medicina e non potea cacare Ondella avea dolor e pena molta e quasi tutta si sentia crepare tal che temendo di restare sepolta un grosso cazzo in cui si fè cacciare guarì ma nel guarir gustò sapore e tenuta di dirlo al confessore Tutti i canoni voglion che il peccato se non è volontario non si stima e che l'uomo non può dirsi dannato se non vende a satan se stesso prima Unde, qui con quesit non è obbligato Decima quinta, questione prima, concludo che peccato veniale e dirlo al prete poco o nulla vale Avea la panta da bisogno astretta Concessa la sua potta a un giovin saggio Il qual trovò la via non molto stretta Ne poté asciutto andare per il viaggio E in muto strada e andò per la più netta E dell'altrui domin prese l'omaggio All'altrui possession egli turbata E questa via ad essergli viene vietata La costumanza della terra mia Scritta de servitude in latino Vuol che a chi del passare non ha la via Sia costretto di dargliela il vicino E così ancor se distrutta sia Per strano caso, per voler divino Itaco e dico che non fece male Perché la via deve aver più vicinale La dora Alice a un medico promise Dargli una chiavatura a tutto pasto Se guarito le avesse il mal francese Che il fegato e il polmone le aveva guasto Quel fe tutta la cura a proprie spese Ma al fin lei si morì Fra quel contrasto Teneturne la figlia come erede Dargli la chiavatura che gli chiede Messer Matteo deciso a questo punto E vuol che tai promesse non sia invane Quando egli a 133 fu giunto Delle sue decisioni sovrumane Ove vuol che promissio del defunto Obblighi quell'erede che rimane Unde tenetur filia ut volunt jura Di dargli la promessa chiavatura Un moro avea bisogno d'un ducato E ad interesse lo volea pigliare Ad Isabella Padoana andato Che a questo modo ne solea prestare L'ebbe con patto scritto Che cacciato le avesse in cul Finché l'avea a pagare un cazzo Che gli avea fuori di misura Questa convenzion può dirsi usura? Chi dell'impresto sol riceve prego L'usura è ben dover perché si parta Ma in questo caso che sia usura nego Perché con l'infedel si fa la carta In capitolo ab illo questo allego Decima quinta questione quarta Ov'è che il papa usura far concede Con quelli che non son di nostra fede Un prete che alla punta del suo cazzo Aveva un panarizzo da crepare Gli fu insegnato da un cotalca Guazzo del caldo d'una potta Il fesse entrare Egli a Giulia Gentil non per sollazzo Lo mise in potta ed era sua comare Sol per non più sentirne il cazzo affanni Or qui fece gli ingiure a San Giovanni Sal capitolo quinto voi notate Decimo quinta questione sesta Vedrete al fin che Dio la volontate E che il pensier via più riguarda questa vita Che l'atto di necessitate e semplicezza Far gli uomini d'esta Sicché scusarsi può quel prete tale Che di due mali fece il manco male Un marchigiano perfido Che avea giurato di non mai chiamar più donna Vide Antonia Fornara Che tenea più viso di calzar braghe Che gonna E la chiamò Come egli farsolea Con la testa appoggiata a una colonna Vorrei sapere Sarà costui sicuro Non esser accusato di spergiuro? Nelle ventidue cause Chiaramente Alla question succeda il caso oscuro Al capoterzo Dixi For si sente E il canone Lo mostra chiaro e puro Ove chi crede far diversamente Esser non de punito di spergiuro Perché parve li maschio E non commesse spergiuro alcuno Se ben con lei Fottesse Un gentiluomo Sol per far dispetto a Giulia Rossa A sé chiamò un villano Ed un mantel vestillo Ed un farsetto E di danare assai Gli empì la mano Perché Giulia chiavasse Ehi con affetto L'opera fe ben Ma avendo un cazzo strano Di dolcezza e dolor La fe morire Utrum Se ciò si può Assassinio dire Alla legge Cornelia dei Sicari Nel codice così il testo ragiona Che quelli non sian detti Micidiari Che ammazzano con il cazzo Una persona Per casi fortuiti E straordinari Onde Quei che col cazzo Mortedona Non commette omicidio Ed il meschino In conseguenza Non è un assassino Uno che vea poco cazzo E manco lena Piglia Lucrezia Meltiola Per moglie Ella di non far figli Sente pena Da che la corte eredita Sue spoglie Da un giovinetto Di gagliarda schiena Si fecchia far Conforme alle sue voglie E fanne un figlio Di morire Al risco Utrum Se qui vabbia Razione il fisco Non avrà nulla Il fisco In questo affare Per la legge Similes Del defunto Digesto De adulteris Ubidare Sottilmente Si tratta A questo punto Qual vuol Che se la moglie Cavalcare Del marito E da più Si fa in un punto Quel che ne nasce Si presume In pria Del marito Figliol Che altri Sia Un cocchiero Lombardo Aveva In casa Una cognata Detta Dorotea Del cocchiero Una notte Il cazzo Annasa E finge Che la madre Le dolea Quei forse Che l'avea Già persuasa A questo Il cazzo Ritto Le porgera Dicendo Or prendi Su cognata Questo Lo prese Or cerco Se commesse In cesto A ventitré Propria Questione Ottava Nel capitolo Acedit Già fu detto Che Indelictis S'attende Se sia Prava L'intenzione O sia Per buono Rispetto Onde Costui Che la cognata Chiava Sol per guarirla E non per altro Effetto Se miri al fin La causa Come deve Non farà incesto Ma peccato Lieve Era gravida Monna Berniciglia E vide un cazzo Dalla sua finestra Con la testa Si grossa Che somiglia Ad un grosso Bolsondolo A balestra Lei Che vogliana Via Lo prese a briglia Tutta gioiosa Con la sua mandestra E se lo pose In bocca Con gran furia Pecò Costei di gola O di lossuria Né in l'un Né in l'altro Avea costei Peccato Giudico Se con Bartol Non mi inganno Nel titol Delle somme Dello stato Imperiale Ove non pone affanno Né pena Ver chi ha il ventre Ingravidato A ciò che il parto Non esenta danno Similmente A costei Non deve vietarsi Cosa che al ventre Venga utile A farsi Stava Zanetta Musica Cantando Alla finestra Ad aspettar Guadagno Ecco Con pescator Via remando Che avea un cazzo Spaventoso In magno Scagliossi in groppa Contra Punteggiando Ambo gustaro Dal capo Al calcagno Poi nulla Di elle Andò a fare Il suo uffizio Può lagir lei De prestito Servizio Ni lest Se l'ha servito Con la potta E lui col cazzo Operando Ha soddisfatto E se restò Con lui Stando di sotta Tutta malconcia Egli di sopra Ha fatto Un delex naturalis Sancta Edotta Innominato Chiama un tal contratto Ibi prescriptis verbis Nei digesti Paragrafo Si o feci Tu facesti Laura vitisca Ladra Tutti nota Amò fuor di misura Un bel studente Costei Fa molti star La borsa vuota Nel chiavarla Rubando destramente E a quel perché La schiena Ben le scuota Da tutto il tolto Ma secretamente Or Devesi chiamar Quel ladro E tristo Se quanto Ebbe da lei Fu malacquisto Nel paragrafo Qui a chiaro Si vede De bonorum Raptoribus Statuta Che se alcuno Fura Quel che esser suo Crede Nel ribaldo Nel ladro Si reputa Nella sesta question Pur si concede Senza dubbio Verun Sanza disputa Est iuris mei Ond Ne attende Il frutto Ed a colui Di buon acquisto Il tutto Un pedante Mezzorbo Non vedea Legger la lezione Agli scolari E perché Da diversi Inteso avea Che il cul Rende la vista E gli occhi chiari Andò a trovare Un di madonna Astea E di elle Un libro E due giuli In danari E in cul Le pose il cazzo Impotta Il dito Utru Possio chiamarlo Sodomito Nei decreti Alla prima Distinzione Di codesta Materia Ove la chiave Al titolo Detto De consecrazione Nel capitolo Sicut Degno E grave Ove in tutto E per tutto Si depone Che la necessità Legge Non ave Tal che Il pover pedante Fu costretto Per la vista Passar Per lo costretto Antonia Saponara Stando in letto Nel tempo Che lo spirito Si parte Venne un suo Innamorato Giovinetto E ben che avolla In l'una E l'altra parte Ondella Una collana Che avea al petto La sciogli Per legato Scritto in carte Utrum Sendo il legato Per trastullo Si possi dir Che il testamento È nullo Messer Matteo Nella decisione 69 Dice Cal consorte Quando Dolose Fa una donazione La moglie Che sta già vicina A morte Nel testamento Poi non ha ragione Ondio Consideratis bene Accorte Considerandis Dico Che quel tal Non l'è marito E il testamento Vale Isabella di Luna Un giorno avea Per la notta Ad un giovine Promesso Poi sta con altro E a quel che Non potea Disse E che Ritornasse Il giorno appresso Quel venne E come l'altro Far solea La chiavò Ben nell'uno E l'altro sesso Poi le lasciò Di rame Una catena Tenetor Tenetor illi Ne de falsi Pena In legge Si ambo Decima Ul piano Nel dotto Titol De compensazione Vuol che Dolus Cum Dolu A salva Mano Può Compensarsi Con discrezione Onde Se con Mancargli Un atto Strano Usò Con Quegli Fuor D'ogni Ragione Ricevendo Da lui Si buone Notti Nunquam Tenetor Falsi Dice Il Scotti Avea Locato Giulia Di Martino Un frate Per chiavarla Un tanto Il mese In otto Giorni Fu stanco Il meschino Per il Soverchio Scuoter Dell'Arnese E in suo Loco Lasciò Fra Venturino Per darsene A quell'opra Proprie Spese Utrum Per questa Satisfazione Dee Perdere Il salario Il Fra Briccone Vuole Questo Ul pian Per la Sua Legge Inter Artifices De Soluzione O è Chiaro Si pondera E si Legge Chi vi Si tratta De Industria Persone Ma Il Giusto Impedimento La Corregge Per l'altra De Pollicitazione Che col Titol Sic Comincia Il Testo Sicché Il Frate Non Dee Perder Per Questo Per Dare Ortenzia Gusto Ad un Suo Amante E Del Suo Corpo Il Suave Loco Il Cull Gli Die Ma Compromessa Avante Che Vabbia Por Del Suo Pose Utru Mortensia Accusarlo Possa Di Violenza In Legge Prima De Justizia Et Iure Ius Nature Paragrafo Vol Baldo Che Primi Motus Omini Nature Non Sono In Suo Poter Quando Egli Caldo Il Primo Furor Fa Che Egli Non Cura Ed Essere Tenuto Peccator Ribaldo Onde Spinto Costui Dai Primi Moti Accusar Non Si Può Degli Altri Gnoti Frate Cipolla Gran Predicatore Veggendo Gli Altri Frati A Buggerare Trovato Un Fraticelsi Mise In Core Volere Un Tal Secreto Anche Provare Ma Ben Presto Alla Prima Fece Errore Spingendo Il Cazzo In Su Senza Bagnare Onde Fe Di Quel Cul Un Mela Granato Utru Se Per Provare Fece Peccato I Gran Sommisti Tengono Tutti Quanti Con Quelli Casisti Di Coscienza Che Dei Peccati Se Ne Trovi In Tanti Che Bisogno Non An Di Penitenza Perché Dove Il Voler Non Si Fa In Nanti Si Attribuisce Tutto A Negligenza Onde Senza Voler Fe Il Frate Il Tutto Non Fu Peccato Già Fottere Il Putto Suor Marta La Lussuria Avea Nel Sesso E Volendo La Carne Lacerare Prese Un Cazzo Di Vetro Dun Commesso E Con La Potta Cominciò A Scherzare Ma Spinta Dal Fodor A Un Colpo Stesso Volendo Tutto Dentro Farlo Entrare Le Si Ruppe La Potta E Il Cul Che Pegio Utrum Se Pe Far Bene Fe Sacrilegio Di Bregò Il Culle La Potta Sacrilegio Non Fu Ma Fu Divotta Fottendo Un Frate A Gambe In Spalla Un Tratto Con Un Palmo Di Cazzo Una Badessa Dal Gran Piacere In Paradiso Astratto Non Conosceva Il Tondo Della Fesa Onde Spinto Da Furia Come Un Matto Nel Tondo Avendo La Sua Lancia Messa Disse O Che Dolce Di Peccar Cagione Utrum Se Il Cazzo Suo Fu Buggerone D'infamia Non Si De Dice Iasone Né D'altro Iuxtalege Mi In Colpare Un Mente Catto Che Non Ha Ragione Né Di Coglionerie Può Si Accusare Onde Il Cazzo Del Frate Buggerone In Conto Alcuno Si Potrà Chiamare Qui Astando For Di Sè Sol Per Trastulo Cacciò Il Tarnutando Cacciò Un Peto Dal Cull Con Gran Schiamazzo Il Frate A quel Saluto Di Rimando E Le Rispose In Fretta Qualche Cazzo La Monaca Turbossi E Le Bia Male Utrum Se Questo Fu Caso Papale Dice La Legge Paragrafo Quando Titol De Verborum Pro Lazione Che Quando Verbum Dictum Mest Scherzando Sia Chi Si Vuol Non Fert Punizione Adit Immo La Legge Il Cazzo Entrando Nel Forame Del Culsine Intenzione Nunquam Questo Sarà Peccato Tale Che Richiedesse Assoluzion Papale Laura Monaca Fu Da Un Genovese Richiesta Di Chiavarla Pot Dietro Ed Andar Per La Via Dritta Promese E Di Lasciare Il Primo Buco Addietro Poi Presto Il Cazzo Propri In Cui Le Mese Spinse Ondella Nibiasmo San Pietro Utrum Desi Punir Quella Blasfema E Restardebba Della Lingua Scema La Prima Distinzione Di Penitenza Nel Capitolo Pro Est Neda Indizio Che Chi Si Trova Nell'altrui Potenza E Dio Rinnega Per Alcun Supplizio Non Merta Pena E Quella Violenza Fa Che Non Se Gli Imputi A Malefizio Ond Coste Non Non Si Può Già Punire Di Biastema Per D'oglia Da Morire Pena 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 Pena